Io sono qui e questa penso è la parte più strana del mio essere qui, io sono qui come una persona. È un esempio di teatro civile, lo spettacolo andato in scena al piccolo Bolognini per una platea di studenti. Lo spettacolo è Grandi Discorsi, ideato da Renato Palminiello, che ne è anche la regista per una produzione dell'Associazione Teatrale Pistoiese. Una rappresentazione incentrata su otto discorsi che hanno segnato una svolta nella storia, a partire da quello del 1913 di Emeline Pankhurst, su fragetta inglese, intitolato Libertà o morte, sino al discorso a Boston nel 1995 di Iqbal Masim, bambino operaio e attivista pakistano. Non c'è un solo messaggio, c'è una condivisione di tematiche sui diritti civili e umani. È una condivisione, non è sicuramente stato costruito con un obiettivo di frontalità. Io ti dico una cosa che devi sapere, ma più di discussione sollecitata da queste voci così autorevoli e così forti, su temi che in realtà toccano la nostra vita quotidiana, quella di tutti, dei ragazzi ma anche la mia. Tra i grandi discorsi c'è quello pronunciato a soli 25 anni da Bianca Bianchi, il discorso sulla scuola, all'Assemblea Costituente nel 1946. Dare il sapere liberatore agli spiriti, perché insieme ai valori del corpo ci sono i valori dell'anima che non si possono assolutamente dimenticare. Lei è molto giovane, eppure si pone in una posizione anche molto difficile, che è quella di richiamare l'attenzione su quanto ancora non è stato fatto e che ha bisogno di essere fatto in un momento così importante come quello in cui si scrive la Costituzione. Questo è sicuramente quello che mi ha colpito di più all'inizio. Che sono una donna.